Buongiorno da Edo, nell'ultima parte della settimana scorsa sono stato impegnato nell'aiuto, diciamo, organizzazione di un evento che è il Casey di Italy Kubernetes Community Days che si è svolto a Bologna. Ne vedete qui uno strascico, ecco, con la maglietta ufficiale. Non mi annovero tra gli organizzatori perché non ho fatto quasi nulla se non andare lì e aiutare a spostare dei pacchi. Invece altri hanno fatto il lavoro e li devo ringraziare perché l'evento è venuto davvero molto bellino, c'era un sacco di gente. I talk erano molto interessanti, c'erano due tracce, si parlava naturalmente di Kubernetes, di Cloud. Insomma, se siete interessati a questo mondo cercate di recuperare, se non c'eravate, i talk che si sono fatti e magari poi vedere come partecipare anche alle prossime edizioni di questo evento meraviglioso. E approfitto di questa intro anche per dirvi che c'è stato un riconoscimento importante nel nostro campo, nel nostro settore informatico, cioè l'Association for Computing Machinery, che attribuisce ogni anno questo riconoscimento che è il Software System Award, l'ha attribuito al signor Andrew S. Tannenbaum. Forse un nome che a qualcuno può far scendere una lacrimuccia, o comunque far sbloccare qualche ricordo, perché è un professore universitario che ha scritto molti libri super importanti, e quindi chi ha studiato informatica all'università sicuramente, anzi molto probabilmente, insomma, ha messo gli occhi e le dita appiccicose sui libri di Tannenbaum. E appunto questo riconoscimento gli è stato dato per il design di Minix. Minix è il sistema operativo minimale e soprattutto il design del microkernel che lui ha realizzato per scopi appunto divulgativi, cioè per istruire i propri studenti proprio sul design di un sistema operativo. E proprio su Minix hanno studiato generazioni di computer scientists che poi hanno disegnato il sistema operativo, tra cui anche un certo Linus Torvalds. Infatti il design di Linux è stato possibile, è stato ispirato anche dal lavoro di Andrew Tannenbaum su Minix, anche se tra i due kernel c'è una differenza fondamentale, ovvero che Minix è un microkernel, mentre Linux è un kernel monolitico. E peraltro Tannenbaum e Linus Torvalds furono proprio protagonisti di una discussione via mail e ci fu un famoso rimbrotto di Tannenbaum proprio a Linus Torvalds che gli disse progettare un kernel monolitico nel 91 mi sembra una scelta stupida, per fortuna lei non è mio studente, altrimenti non avrebbe superato l'esame. In questo detto a Linus Torvalds sappiamo poi che fine ha fatto Linux. Ma insomma, al di là di questo, Tannenbaum è sempre stato un sostenitore del design a microkernel, però poi la storia ha dato invece ragione al kernel monolitico. Però comunque questo volevo racquagliarvi sul fatto che Tannenbaum è stato appunto insegnito di questo prestigioso riconoscimento. E basta, questa era un po' l'introduzione, ora un po' di aggiornamenti sulle questioni delle leggi, dell'Unione Europea, delle cose che abbiamo visto, insomma è importante. Partiamo naturalmente da Chat Control. E partiamo proprio dall'aggiornamento più frizzante, più interessante che tutti stavano aspettando, cioè parliamo di Chat Control. Se siete qui e non avete seguito le ultime puntate, l'ultima credo puntata, dove ho parlato di che cos'è Chat Control, come funziona tecnicamente e quali sono i pericoli che avrebbe portato, insomma recuperate quella puntata così capite meglio. Qua invece vi voglio dire che Chat Control è stato bloccato, fondamentalmente è stato bloccato e rimandato a data da destinarsi, non sappiamo ancora quando. Quindi, insomma, non c'è, per adesso non c'è discussione sul Chat Control. Come si dice Stack Diary, il sito su cui recupero questa news, insomma i parlamentari europei hanno deciso di posporre questa votazione e si andrà dopo l'estate, perché adesso c'è il periodo in cui il Parlamento si deve reinsediare dopo le elezioni, la presidenza del Consiglio Europeo passa dal Belgio all'Ungheria, che peraltro ha già dichiarato che andrà avanti con le negoziazioni su questa legge, perché gli interessa molto soprattutto la protezione dei bambini, sempre pedopornografia online brutto, quindi bisogna mettere qualunque sistema di sorveglianza per impedire che queste cose accadano, insomma, quindi le cose andranno avanti, però per il momento la proposta, che è una proposta belga, è stata bloccata, è stata posposta. E in questo articolo che becco su Stack Diary poi si ricordano anche tutte le grosse opposizioni della società civile contro questa legge, quella che avevamo già citato noi, come Meredith Whitaker, presidente di Signal, che ha proprio parlato di un sistema che potrebbe anche proprio mettere a rischio la sicurezza globale delle comunicazioni online, specie in un periodo come questo che, sappiamo globalmente, è abbastanza delicato. E si parla anche dell'app di messaggistica privata Trima, o Trema, che non so come si dice e non conoscevo, ma comunque anche loro hanno posto fermamente questa legge. Si parla di Patrick Breyer, membro del Parlamento Europeo e del Partito Pirata, che è quello che proprio abbiamo citato la scorsa volta, che ha chiamato proprio una mobilitazione dei cittadini dell'Unione Europea per far sì che, insomma, si impedisse questa discussione. E si cita anche Edward Snowden, che ha parlato di un rebranding, di marketing, dal sistema di sorveglianza di massa delle comunicazioni, che è stato rebrandizzato, upload moderation, sperando che nessuno si accorgesse che era la stessa cosa. Ma insomma, ora, cosa succederà? Succederà che per adesso se ne ripara dopo l'estate, non sappiamo ancora bene come, però bisognerà riprendere un po' da capo con tutte le discussioni, con tutte le negoziazioni, quindi si andrà avanti, ma si riprenderà. E c'è una deadline importante che è aprile 2026, da tenere d'occhio, perché c'è un'esenzione alle leggi che permette alle social network di automoderare i propri contenuti, che appunto terminerà, era stata prorogata, e quindi potenzialmente da quel momento verranno meno alcune barriere di sicurezza, ecco, sulla condivisione di materiale sensibile online. Quindi una deadline da tenere d'occhio. Nel frattempo, appunto, la discussione riprenderà e continuerà, ci saranno i politici, insomma, da una parte, e dall'altra le organizzazioni che tutelano i diritti digitali dei cittadini europei, la privacy dei cittadini europei, e anche alcuni europarlamentari, insomma, che ci sono fortemente espressi a favore, insomma, di questi diritti fondamentali. Poi, in un altro aggiornamento, parliamo di DMA e parliamo di Apple, perché abbiamo visto che hanno presentato iOS 18, anche qua recuperatevi la puntata, un sacco di novità, un sacco di nuove cose, ebbene, di queste nuove cose probabilmente vedremo poco in Unione Europea, appunto, e per adesso, poi verranno magari riproposte in seguito, ma a causa del DMA, alcune di queste non potranno essere subito implementate. Parlo di tre cose in particolare, che sono la condivisione dello schermo tramite SharePlay, il mirroring del telefono avanzato che abbiamo visto, e Apple Intelligence, quel rebranding geniale di AI in Apple Intelligence. Leggo da un articolo di D-Day, affirma Roberto Pezzali, prendiamo per esempio il mirroring del telefono, Tramite macOS è possibile gestire completamente il proprio iPhone senza tirarlo fuori dalla tasca tramite connessione wireless. Apple, per essere totalmente tranquilla, dovrebbe garantire lo stesso tipo di funzionamento anche con altre app e altri sistemi operativi, con quel principio della interoperabilità. Ecco, proseguo, TeamViewer, forse la più grande azienda al mondo di software di accesso remoto, potrebbe volere accesso alle stesse identiche API, che oggi sono private, per poter portare la stessa funzionalità su Windows o su altri sistemi, oppure anche nel suo software per Mac. Secondo il DMA, Apple dovrebbe garantire su richiesta l'accesso a determinate librerie private se non ci sono rischi per la sicurezza. E Apple, insomma, potrebbe non voler dare questo diritto, questo accesso a terze parti. Per adesso, insomma, ha deciso di stoppare questa feature e poi si parla di Apple Intelligence. La situazione qui è leggermente diversa perché le questioni sono due, sono distinte. Ci dice sempre di D-Day, c'è un problema di base con l'integrazione di CESGPT legata all'autenticazione e poi c'è un problema legato alla interoperabilità dei modelli LLM. Dunque, Apple, sapendo quello che era successo ai tempi con i motori di ricerca, si è portata avanti annunciando che a oggi Siri usa CESGPT come servizio di ricerca esterno, ma in futuro si potranno scegliere altri motori di generazione di testo, sarà l'utente a sceglierli e questo soddisferebbe il DMA. Tuttavia, in Europa CESGPT richiede autenticazione tramite account. Non è previsto il servizio di ricerca privato, anonimo, ecco. Ma invece per Siri è necessaria una ricerca esterna totalmente anonima e non tracciata. Quindi se in Europa Apple fosse costretta a far autenticare i suoi utenti con l'account di CESGPT, ecco che OpenAI si ritroverebbe milioni di utenti registrati proprio da Apple, che peraltro accetterebbero i suoi termini di utilizzo, che sono decisamente meno privacy-oriente di quelli di Apple, e quindi è difficile che a Cupertino possano accettare di servire la privacy degli utenti iPhone su un piatto d'argento OpenAI. Queste sono le parole di Day e di Roberto Pezzali. Come, prosegue l'articolo, è difficile che possano accettare di garantire, nel caso in cui l'Europa lo richieda, la stessa interoperabilità che ha previsto tra le app e il suo modello LLM con altri modelli LLM di terze parti. E quindi niente, ci rivediamo a 2025. So naturalmente che questa cosa non fa piacere a molti, come dice anche la chiusura di questo articolo, da una parte c'è che applaude alle decisioni dell'Europa che limitano lo strapotere delle aziende americane, dall'altra ci sono dei clienti che non stanno capendo. Il DMA avrebbe dovuto aumentare la competizione, avrebbe dovuto portare a prezzi più bassi per i servizi, avrebbe dovuto creare alternative. Probabilmente ci arriveremo con il tempo, ma al momento è cambiato davvero poco. A onor del vero è un po' cambiato su iOS. L'arrivo di store alternativi, l'arrivo di app che prima non avrebbero potuto esserci, pensate agli emulatori, la possibilità di scegliere browser con engine diversi. Insomma, in realtà delle cose sono cambiate. Sono processi lenti naturalmente che richiederanno adattamenti, però qualcosa si sta provando a fare, piuttosto che cedere totalmente allo strapotere di chi ha molti più soldi, forse provare a contrastarlo anche con framework legislativi, non è male. Ma io un po' la penso così. Poi ognuno ha le sue opinioni. Infine, altri due piccoli aggiornamenti. Tutti riguardano Meta. Sapete che Meta aveva detto proprio la settimana scorsa che avrebbe utilizzato i post degli utenti per allenare i propri LLM, i propri modelli di AI. Ebbene, questa roba in Europa non la potrà fare. È stata proprio Meta stessa a dire che, ok, visto che in Europa avete delle leggi, in America non ce le abbiamo, non sapevamo che in Europa aveste queste leggi, quindi blocchiamo tutto e facciamo marcia indietro. Quindi non utilizzerà i dati, i testi, insomma i post degli utenti di Facebook, di Instagram, di Trez in Unione Europea per allenare i propri LLM. Poi mentre naturalmente si è lamentata di questo, cercando di farlo passare come un freno all'innovazione, dicendo che ora i propri modelli saranno allenati con materiale proveniente soltanto da stati fuori dall'Unione Europea e quindi saranno più poveri di informazioni perché avranno meno sorgenti. E questo è indubbiamente vero. Però è anche vero che potrebbe esserci un'alternativa all'usare indiscriminatamente tutti i post degli utenti, leggerli e infilarli nei modelli per allenare, insomma, gli LLM. Potrebbero esserci alternative? Potrebbero esserci modi per proteggere le preverse degli utenti e al contempo migliorare i modelli di AI generativa? Insomma, questo è quello che pensa l'Unione Europea. Meta ha detto, vabbè, adesso ne riparliamo, troviamo un modo per lanciare Meta AI anche in Europa, insomma, probabilmente questo modo arriverà, ma arriverà in futuro. E approfitto per restare in tema Meta, ma ci spostiamo nel piccolo dell'Italia dove Meta è stata multata per 3 milioni e mezzo di euro dal AGCM, Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato, perché Meta non ha fornito informazioni chiare sull'utilizzo dei dati degli utenti ai fini della monetizzazione al momento della creazione di un account su Instagram via web. Pratica ritenuta scorretta che è andata avanti per circa un anno a partire da marzo 2023. Inoltre, secondo AGCM, Meta per molto tempo non ha gestito con precisione la sospensione degli account su Facebook o su Instagram. Per esempio, non ha fornito indicazioni chiare sulle modalità di decisione, se erano automatiche oppure manuali tramite il lavoro di un operatore, né sulla possibilità di contestare questa decisione, peraltro garantita entro un tempine di 30 giorni. Questa pratica è andata avanti da marzo ad agosto 2023, poi Meta ha introdotto le modifiche e ha corretto entrambe queste situazioni che oggi quindi risultano cessate. In ogni caso, AGCM ha ritenuto di dover senzionare Meta per 3 milioni di euro per la prima condotta, quindi quella di Instagram, e 500 mila euro che sono stati ridotti da un milione per via di collaborazioni di Meta per la seconda. Quindi è multina a Meta perché comunque è pratica e scorretta. Vabbè, 3,5 milioni di euro praticamente. E li hanno trovati pulendo i tavoli. E ora per la rubrica più attesa del podcastone, il link, ve ne lascio due cadinissimi. Il primo è Inside the Tiny Chip that powers Montreal Subway Tickets. Insomma, un'analisi dei chip NFC che stanno dentro i biglietti della metro di Montreal. Pare un blog post delirante, in realtà è super interessante. Ci fa capire come riescano a creare dei mini chip che vanno all'interno dei biglietti della metropolitana, che poi è la stessa tecnica che si usa in tutto, insomma, quasi in tutto il mondo, no? Dove ci sono dei biglietti attivi, diciamo, che possiamo avvicinare a dei lettori e questi lettori reagiscono a questi biglietti. Ma la domanda che si fa a questo blog è come è possibile creare dei chip che siano così piccoli da stare in un pezzo di carta e che siano così economici, che possono essere use e getta. Cioè, li usiamo, poi li buttiamo. E in questo blog post c'è la risposta. C'è un reverse engineering, in pratica, c'è un'analisi del chip che sta all'interno di questi biglietti e c'è proprio un tentativo di capire come può funzionare e soprattutto come può funzionare in assenza di elettricità. Cioè, come fa questo chip a mandare informazione a un lettore se non c'è energia all'interno del chip, il chip è totalmente passivo, eh, qui c'è la risposta ed è molto interessante. Vi consiglio di leggerlo, non è manco troppo lungo, quindi vi lascio questo primo link. E il secondo link è altrettanto interessante, però vi rendo conto che qua serve un pochino più di tempo, soprattutto un pochino più di attenzione, ma vi garantisco che verrà ripagata. Questo blog post, sentite, poi è un blog post che sta su GitHub, questo blog è proprio su GitHub. Insomma, Everything I Know About The Fast Inverse Square Root Algorithm. Ora, qua ci sono due categorie di ascoltatori del podcast, quelli che al nome Fast Inverse Square Root subito hanno capito di cosa sto parlando e quelli che invece non l'hanno capito. E i primi, sospetto che siano anche accaniti videogiocatori. Perché? Perché il Fast Inverse Square Root è un algoritmo che è stato reso famoso da John Carmack nel suo grande videogioco, Quake 3, e l'abbiamo scoperto quando il codice sorgente di Quake 3 è stato reso open source. E c'è questo algoritmo appunto che è un algoritmo per determinare la radice quadrata inversa. Ed è un algoritmo che per lungo tempo è stato visto come qualcosa di mistico, di magico, soprattutto per la presenza di una costante strana che non si capisce da che cosa sia venuta fuori, e dei passaggi abbastanza complicati, oltre che dei commenti tra cui cito il famoso WTF, proprio sulla costante che non si capisce. Ma insomma, in realtà, questo algoritmo è assolutamente spiegabile e comprensibile. E in questo blog post si spiega come funziona. Però naturalmente vi informo che c'è grandissimo livello di matematica, anzi bassissimo livello di matematica, nel senso che si va proprio nel basso livello, nella matematica dei floating point numbers, della rappresentazione dei floating point numbers in bit, in 32 bit. Quindi si va proprio a vedere matematica binaria, logaritmi, insomma, non è semplice, è complicato. però, però, arrivate alla conclusione e capite la bellezza, la potenza di questo algoritmo, la bellezza di questo codice, la bellezza anche delle approssimazioni, perché per risolvere problemi matematici molto complessi, senza far esplodere la CPU, si ricorre ad approssimazioni. E questo è un articolo che vi spiega perché e come io vi consiglio di leggerlo, ve lo lascio nelle note di questo episodio. Sono arrivato alla fine, grazie per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che questo podcastone è disponibile su tutte le piattaformi di podcast, ma anche su YouTube, se volete vedere il mio faccione e gli articoli che condivido e magari ne approfitto per fare anche qualche esempio scrivendo cose, l'ho fatto alla scorsa puntata ed è un pattern che mi è piaciuto, magari riprenderò in futuro, quindi insomma, avere il video di fronte potrebbe tornare utile. Il video lo trovate su YouTube, ma anche su Spotify dove il podcast è presente in video. Però, se invece vi accontentate della sua voce, state tranquilli che questo sarà sempre disponibile, almeno finché continuerà il podcast, anche su tutte le piattaforme di podcast che voi utilizzate, c'è l'RSS e lo seguite da lì. Grazie di nuovo, ci vediamo alla prossima. Ciao!